Ciao bambini! Oggi ripassiamo il reticolo. Il reticolo è un insieme di linee orizzontali e verticali. Queste linee formano delle caselle, cioè degli spazi dove noi possiamo trovare o inserire disegni e immagini, come questi. Possiamo descrivere dove si trovano gli oggetti del reticolo attraverso lettere e numeri. L'oggetto si trova nella casella in cui si incontrano lettera e numero. Ad esempio, il sole si trova nella posizione B3. Se facciamo un altro esempio, il gatto si trova nella posizione C2 e si scrive così. Il pipistrello si trova invece in A1. Ricordatevi di scrivere sempre prima la lettera e poi il numero. Adesso tocca a voi. Buon lavoro prima A!